Grazie a tutti. Dopo gli ultimi roghi che hanno interessato l'area costiera a nord della città di Trani abbiamo affiancato in una passeggiata di monitoraggio ambientale i volontari di Lega Ambiente. Le immagini che vedete fanno riferimento ad un'area demaneale che ad oggi è terra di nessuno. Pierluigi Colangelo, presidente di Lega Ambiente, ci illustra la storia della conformazione fisica del territorio. La costa di Trani paradossalmente è l'unica costa in progressione nell'Adriatico, mentre tutta la costa mediterranea subisce un fenomeno di aggressione da parte del mare, di regressione. Qui ci sono dei tratti costieri che sono progrediti addirittura anche di 100-150 metri nel mare. Il confine, la linea naturale della costa con quella artificiale sviluppatasi negli anni. Per gli scarti? Quindi sono le scariche abusive delle scarti e delle segherie. Perché? Perché negli anni, dagli anni 50 fino agli anni 90, quando intervenne la denuncia di Lega Ambiente che bloccò questo fenomeno, si scaricava impunemente il materiale di elaborazione del marmo in il mare. Ovviamente chiunque ha considerato questo luogo terra di nessuno, chiunque si è sentito legittimato a poter scaricare qualsiasi forma di rifiuto. Questo fenomeno che si era fermato effettivamente, anche grazie al monitoraggio, alle denunce, probabilmente complice alla pandemia, è ritornata ad essere nuovamente abbandonata a terra di nessuno. Quindi prima si scarica, poi si brucia. Lega Ambiente effettua periodicamente dei sopralluoghi di monitoraggio al fine di segnalare tempestivamente cumuli di rifiuti potenzialmente dannose all'ambiente e preda di roghi appiccati per celare eventuali tracce di riconoscimento. Questo cumulo di rifiuti qui fino a 5-6 giorni fa non c'era e possiamo anche notare che qua c'è già stato uno scarico precedente e incendiato. Molto probabilmente se torniamo fra qualche giorno qua non troveremo di nuovo cenere. Ormai possiamo dire che questa è una vera e propria terra dei fuochi, questa aria dimenticata. E gli incendi sono quotidiani, praticamente stiamo chiamando i vigili del fuoco tutti i giorni. Qua possiamo anche vedere che in passato sono stati anche installati una serie di lampioni, molto probabilmente per illuminare l'aria, ma come vediamo sono stati depredati di tutta la parte dei cavi di rame. La situazione è ad altissimo rischio incendio. Uno degli accessi principali all'aria in questione è questo che vi mostramo in via Barletta. Le catene installate per bloccare gli ingressi vengono facilmente rivelte e non vi sono telecamere o fototrappole che possano fungere da deterrente. L'aria inoltre è sfruttata anche dalla microcriminalità per abbandonare i proventi di scippi e furti. Ci sono fenomeni di microcriminalità che si vanno ogni giorno aggravando in questa zona. Qui ovviamente corpi di reato, magari all'esito di scippi, di eventuali furti, vengono scaricati qui. Ecco perché questa zona è non sorvegliata. Quindi l'immediata richiesta è quella della sorveglianza. Recupero in chiave naturalistica per ridare alla città una delle sue spiagge più grandi. Questo è il sogno di Lega Ambiente, nelle parole del Presidente del Circolo Cittadino. Stiamo parlando di 3 km di costa sabbiosa. È vero, siamo sulle pietre, ma stiamo parlando di 3 km di costa sabbiosa. Perché queste sono le pietre che il mare, in maniera naturale, ha trasformato in ciotoli, un po' sulla falsa riga di salsello. Quindi la prospettiva negli anni è che si recuperi questa costa. Quindi immediatamente controllo e sanzione e poi in prospettiva recupero dell'intera costa in chiave naturalistica.